Buonasera a tutti amici di Rubrica Rosso Nera, ecco il video che vuole celebrare il Milan. Il Milan che vince 3-2 contro l'Udinese, un Milan che vince grazie alle reti doppiette di Rebic e grazie al gol del fortissimo e sempre più inarrestabile Teo Hernandez. Una vittoria molto importante, una vittoria che ci porta a quota 28 punti e ci porta in prossimità della zona Europa League. Visto il pareggio anche con il Cagliari, del Cagliari il Milan si avvicina sempre più alla zona Europa League. Un Milan che ha saputo creare varie occasioni da gol, un Milan che ha giocato la partita con il 4-4-2 e a partita in corso si è tramutato in un 4-2-3-1 e nel secondo tempo c'è stata la chiave di volta e la svolta della partita è arrivata all'ingresso di Rebic. Rebic che appena entrato dopo 3 minuti segna un gol con un ottimo inserimento e che chiude la partita sul 3-2 a pochi secondi dalla fine con una bellissima finta a limite dell'aria e con un gol piazzato di precisione col piede sinistro. Il Milan che ha trovato anche un ottimo gol grazie alla classe, al dinamismo, alla forza fisica di Teo Hernandez che si sta rivelando sempre più un campione, un giocatore fondamentale su cui costruire il progetto del prossimo futuro. Un Milan che sta crescendo, sta crescendo soprattutto non solo a livello tecnico con maggiore solidità di squadra ma soprattutto sta crescendo molto a livello mentalità. La mentalità, la personalità di combattere, di giocare con grinta e tutto questo è riconducibile all'ingresso nello spogliatoio in campo nell'ambiente Milan di Zlatan Ibrahimovic. Un giocatore che grazie alla sua personalità sta facendo crescere la squadra e sta facendo crescere i più giovani. Un Milan che nelle prossime partite dovrà puntare con forza e decisione su Rebic. Rebic che può garantire anche lui stesso grande personalità, carisma ma oggi abbiamo visto anche grande freschezza sia fisica che mentale e penso che possa essere l'arma in più per recuperare posizioni, recuperare punti sulle nostre concorrenti. Quindi il Milan torna a vincere, continua a vincere e cerchiamo di andare avanti così, di portare avanti al meglio la stagione seppur iniziata con mille difficoltà. Se vi è piaciuto questo video mettete mi piace, condividetelo e iscrivetevi al canale YouTube Rubrica Rosso Nera. Grazie a tutti.